La Regione Abruzzo dimentica di stanziare i fondi e la provincia sfratta gli istituti superiori di Pescara. Questo è quanto si legge nella nota del consigliere PD in Regione Antonio Blasioli dopo la comunicazione da parte del presidente della provincia De Martinis che comunica ai dirigenti l'assenza di fondi per le affitti in vista del prossimo anno scolastico, una lettera nella quale si informano i dirigenti dell'impossibilità da parte dell'ente della provincia di Pescara a sostenere le spese per le affitti delle sedi scolastiche temporanee, invitando i dirigenti a trovare e ad ipotizzare delle soluzioni alternative, facendo fronte anche agli eventuali incrementi delle iscrizioni. La provincia di Pescara stanzierebbe per gli affitti ogni anno 450.000 euro, di cui 300.000 intercettati da un contributo della Regione Abruzzo, mentre la restante parte sarebbe a carico della provincia stessa, fondi che la Regione avrebbe già dovuto prevedere nel bilancio 2024, in corso da considerare anche i lavori su alcune delle strutture scolastiche e secondo il consigliere Antonio Blasioli, nella prima seduta utile del Consiglio regionale bisognerà trovare un accordo e perciò presenterà soluzioni per intercettare i fondi necessari per le locazioni, garantendo il rispetto al diritto allo studio e per fare in modo che questa richiesta venga inserita nella programmazione 2021-2027 dei fondi per lo sviluppo e la coesione con lo scopo di diminuire in futuro la spesa per le locazioni, proponendo inoltre la realizzazione della settima palazzina dell'Istituto di Istruzione Superiore Volta di Pescara.